E poi ti tocca aiutare la destra online insultando gli elettori di destra. Che bello video che faccio, e io? Ciao internet, ieri a metà dell'aperitivo con un amico mi ha chiamato un giornalista del giornale. La domanda era paradossalmente abbastanza semplice. Mi diceva, sai, ho preso un po' di tool di analisi degli utenti fake su un po' di profili politici, di politici, e ho trovato una cosa. Ho trovato che i politici di destra hanno un sacco di più di utenti che i tool in realtà classificano come fake. Quindi cosa ne posso trarre come conclusione? E lì c'è il solito dilemma morale. Da un lato gli puoi dire, no, sai, c'è Bannon dietro che lancia i fake users, che stimola questa propaganda di destra fatta di fake, che in una certa percentuale, anche sostenuta, è tecnicamente vero, e poi invece c'è la verità. E la verità è più scomoda, più difficile da raccontare. Ci ho messo venti minuti a raccontarla a lui, magari qua ne faccio la versione un po' più semplificata, giusto per non stressarvi più di tanto. La versione più complicata è che sfortunatamente, nel caso dell'elettorato medio di destra e 5 stelle, assistiamo a un livello di scolarizzazione digitale abbastanza bassa. Sì, è brutto da dire, però è vero, lo vedete tutti i giorni. Il livello di scolarizzazione digitale, e spesso anche di scolarizzazione punto e basta, molto basso, va in modo che questa cosa male si concili con buona parte degli algoritmi che trovate online. Ora, come funzionano i sistemi di fake users che trovate online? Si basano su due principi generali. Il primo dei due è un campionamento. Quindi, non guardano tutti i follower, ma ne prendono una piccola quantità. Ora, molta parte di questi online prendono solo gli ultimi, che è un male. È un male perché? Perché, tecnicamente, non sono rappresentativi di tutto il... la quantità dei follower. Se qualcuno si compra... Cos'era il treno. Se qualcuno si compra mille follower nell'ultimo mese, prima delle lezioni, questo impatta su mille follower, su magari 50, 100, un milione. La seconda parte è molto più difficile da spiegare, perché si basa su fattori di rischio. Ciascuno di queste piattaforme mette in campo una serie di fattori di rischi. Le più sofisticate li dicono anche, molti non li dicono perché, perché dicendoli, ovviamente, si dà giocoforza facile all'altra parte, per creare dei finti utenti che non vengano rilevati. Detto quello, i fattori sono molteplici. Sono il fatto che hai o non hai una foto di profilo, che hai o non hai una descrizione, che quello che tu twitti è principalmente legato a una o poche fonti, che retwitti solo e non scrivi tweet. Tutta una serie di comportamenti che normalmente contraddistinguono un bot. ma che, sfortunatamente, vista la bassa scolarizzazione informatica dei seguaci di prevalentemente, ma statisticamente, di destra e di cinque stelle, anche se la sinistra si sta muovendo da quel punto di vista, basta vedere il fenomeno facciamo rete, dicevo, la bassa scolarizzazione fa in modo che gli utenti veri, che si iscrivono ai social solo perché glielo dice il leader maximo, si comportino esattamente come dei bot. Non hanno foto profilo, non cambiano magari il nome che automaticamente gli dà la piattaforma, perché non lo sanno fare, non mettono una descrizione e avendo approcciato i social proprio esclusivamente per spingere il tipo fan club, il proprio politico di riferimento, il piccolo pantheon di politici di riferimento, ovviamente si comportano come un bot, cioè rilanciano contenuti e fanno poco altro che lanciare contenuti, retweetare e insultare le controparti. Questo non li rende però bot, li rende, beh, da un certo punto di vista li rende bot in senso letterale, ma non in senso fisico. Ed è un fenomeno da tenere in considerazione. Quando vediamo un'altissima quantità di fake users, dobbiamo chiederci se sono, come vengono calcolati, come sono stati trovati, perché? Perché è sfortunatamente, altamente possibile, che non siano utenti fake nell'accezione del un software di computer che simula un essere umano, ma semplicemente esseri umani che hanno lo stesso tipo di capacità di una piccolo script in un programma di, in un linguaggio di programmazione qualunque. Non so se questa cosa mi rende felice o non felice, perché ovviamente, da un certo punto di vista, la cosa è fin peggiore. Dall'altra parte, credo che sia sociologicamente, ma anche informaticamente, è necessario capire se si parla di un fenomeno di fake users, di fake bot, soprattutto nella politica, conoscere che, alle volte, le persone possono essere più stupide di un algoritmo. Detto questo, e voi? Cosa ne pensate? Me lo raccontate qui sotto, sono curioso di sentire la vostra opinione. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Sono tornato a casa, quindi audio e video dovrebbero essere di qualità migliore, anche se, in realtà, nelle prossime settimane correrò un po' in giro per l'Italia, quindi probabilmente dovrò fare ancora dei video in movimento. Sabato, se volete, ci vediamo al Galileo Festival a Padova e, per il resto, grazie mille per avermi ascoltato. Buon inizio di settimana e Stati Parati! Ciao!